ciao a tutti amici fiosini come state? spero tutto 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 bene oggi volevo fare un sound nella bellissima grecia ambientato in questo magnifico paese quindi vi auguro buon relax S-I-S-M-R-D Sì, 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 sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì.